Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Radio Scivita in Blu in questo giovedì 20 febbraio 2020. In primo piano questa mattina manifestazione per ospedale a fondi organizzata dall'omonimo comitato che si è radunato in piazza San Pietro e che ha sfilato per il centro storico arrivando poi dinanzi al nosocomio San Giovanni di Dio in zona San Magno. Tante le persone che hanno preso parte in testa al corteo, oltre agli organizzatori parroci delle parrocchie del centro della città. La voce di protesta contro i servizi che secondo gli organizzatori non sarebbero adeguati alla struttura e al territorio che coprono tra i tanti presenti anche diversi esponenti politici e amministrativi non solo di fondi ma anche delle città limitrofe. Cronaca arrestato a fondi dei carabinieri in esecuzione dell'ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Latina un 31enne originario del Gambia ma residente a fondi. L'uomo secondo quanto appurato dal norma di Terracina deve rispondere di tentato omicidio. Il 31enne infatti già sottoposto alle misure cautelare dell'obbligo di firma per i reati commessi nell'aprile del 2019 proprio a fondi reati che hanno per l'appunto visto rispondere il giovane di porto abusivo di arma a tentato omicidio passando per tentata estorsione fino a resistenza a pubblico ufficiale. Andiamo all'attualità dissequestrata all'ex Avir. Il sito torna al comune di Gaeta a dare la notizia tramite un lungo post Facebook. Il sindaco di Gaeta Cosimino Mitrano spiegando come non si tratta solo del dissequestro della vetreria ma dell'intera area ex Avir. A seguito della notizia inizia ad intervenire anche il mondo della politica. Tra le prese di posizione spicca quella del Partito Comunista che chiede a gran voce che venga garantita la gestione pubblica del sito. Curioso fatto registrato ieri mattina nel centro storico di fondi dove si è letteralmente incastrato un tir. Il grosso otomezzo secondo le ricostruzioni avrebbe imboccato Corso Appioclaudio dalla zona di Porta Roma e sarebbe iniziato a risalire il corso verso il castello tra lo sconcerto delle attività commerciali e dei passanti. Arrivato al piazzale di Santa Maria però si sarebbe fermato e costatando il consiglio errato datogli dal navigatore satellitare con non poche difficoltà poi il conducente sarebbe riuscito a fare manovra e riuscire dalla stessa strada che aveva percorso all'andata. Qualche danneggiamento è stato segnalato in segne e cartelli stradali. Politica ancora fondi in continua fibrillazione e gli ambienti della destra locale. Ieri infatti l'intero direttivo della Lega ha reso noto di aver presentato le dimissioni per via delle richieste considerate irricevibili del coordinamento regionale. Gli esponenti sovracomunali del Carroccio, secondo quanto hanno reso noto, gli ex dirigenti di fondi avrebbero imposto l'accordo con Forza Italia alle prossime elezioni comunali di primavera. Accordo non condiviso dall'intero quadro direttivo locale. Di qui la lettera di protesta a cui non c'è stata risposta e le conseguenti dimissioni. Ma non è tutto perché successivamente si è mossa Forza Nuova a fondi che ha annunciato come alle prossime elezioni comunali sarà presente anche il simbolo del partito della destra radicale. Un annuncio non a sorpresa, certo, la vera novità è l'apertura da Forza Nuova ai fuoriusciti della Lega e ad altri partiti civiche e schieramenti che si riaffacciano alla tradizione della destra cittadina. Polemiche politiche anche ad Itri dove il problema del randagismo nei giorni scorsi ha portato al bando comunale. Bando che, secondo la consigliera Maggiarra, vedrebbe procedure anomale. I dubbi contro l'amministrazione Far Giorgio da parte della consigliera Maggiarra sono in merito soprattutto alla somma posta a base d'asta considerata troppo bassa per i servizi richiesti. Chiudiamo con lo sport. Un successo la gara podistica Gaeta Formi ha tenutasi tra le due città del golfo nei giorni scorsi. La classifica del podismo ha richiamato quasi 900 runners e tra loro si è imposto, tra i record della quattordicesima edizione, il padrone di casa Formiano Doc Francesco Mallozzi dell'ASD Top Run Fondi che ha coperto i 10 chilometri in 32 primi e 56 secondi In campo femminile, invece, successo della venezuelana Eugenia Lili Gomez dell'ASD Top Run Fondi che ha chiuso con il tempo di 38 primi e 54 secondi. Siamo in chiusura del nostro notiziario vi ricordiamo come sempre i nostri contatti potete scriverci su whatsapp al 348-888-1447 o su radiocivitainblu.com Per questa edizione è tutto un saluto da Simone Nardone e un buon proseguimento di ascolto su Radio Civita in Blu e un buon proseguimento di ascolto